Un'opera dal grosso valore ingegneristico, dichiarata originariamente irrealizzabile. Noi invece l'abbiamo realizzata nel corso di due anni. È un sottopassaggio sotto falda, consentirà sostanzialmente di interconnettere le due aree urbane che sono per sua natura divise dalla ferrovia, eliminando peraltro un sovrappasso in ferro provvisorio realizzato nel 2008, che noi ci dichiariamo fin d'ora pronti a rimuovere. Consegneremo il contratto all'impresa appaltatrice entro questa settimana e nel corso del mese di settembre provvederemo all'abbattimento della passerella provvisoria. Apre da oggi il sottopasso pedonale di via Vigliena della linea 2 della metropolitana San Giovanni a Teduccio, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana per eliminare il passaggio a livello e il sovrappasso provvisorio in ferro, struttura fortemente invasiva e mal sopportata dal territorio. Nel sottopasso ci sono rampe per l'accesso di diversamente abili e per il trasporto di biciclette, impianti di illuminazione a led per il risparmio energetico, un impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque e un impianto per la videosorveglianza. L'intervento si completa con la realizzazione di un parco urbano attrezzato per svago e sport, per un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro. Ma questo è un primo tassello, anzi è un tassello di tante altre cose che abbiamo cominciato in questi anni a fare con RFE. Abbiamo per esempio migliorato l'accessibilità della stazione di San Giovanni, prendo l'uscita sul Corso Garibaldi all'altezza dell'università. In questi giorni con RFE stiamo immaginando, RFE presenterà un progetto al Comune per trasformare quella stazione di San Giovanni in un vero e proprio nodo di interscambio, in cui c'è una parte di parcheggio che serve per l'interscambio anche a servizio della città, ma c'è un'altra parte invece che servirà praticamente da fare l'interscambio con la gomma, con i bus che potranno entrare in stazione, lasciare i cittadini e quindi migliorare tutta l'accessibilità per entrare alla stazione e alla zona. Insomma, un ottimo lavoro. Grazie.